Affluenza in calo a Cuneo, come peraltro in tutta Italia, che cosa significa? Se le liste civiche che noi rappresentiamo come aggregazione non avranno nessun documento da questa astensione evidentemente vuol dire che la gente non ha più fiducia nei partiti quindi diventa antipolitica noi speriamo di dare un messaggio di politica seria cittadina liste civiche che è l'aggregazione del nostro candidato Borneo Questo può giovare o può aiutare le percentuali del Movimento 5 Stelle? Ma innanzitutto questo conferma il fatto che ci sia un po' un distacco da quella che è la politica anche amministrativa da parte dei cittadini io credo che in qualche modo la differenza di affluenza senza la possibile sacca del Movimento 5 Stelle sarebbe ancora più alta quindi io credo che possa giovare Vuol dire che c'è un grosso malessere sociale io credo che questa crisi stia lavorando anche in termini di sfiducia nella politica, nei partiti, ma anche nella politica del rigore, diciamola tutta la crisi, il disagio dovuto alla disoccupazione, alla mancanza di lavoro bisogna che nel Paese si realizzi una svolta che ridia fiducia che consenta di avere più serenità per il futuro oggi questa serenità non c'è Di fatto mi aspettavo un astensionismo più corposo questo mi felicità, la gente è andata a votare perché sicuramente a prescindere dagli scandali dove la Lega a differenza di altri ha fatto pulizia di fatto contano le persone noi abbiamo voluto candidare una persona quale Claudio Sacchetto che è dimostrato da consigliere comunale da assessore provinciale e ora da assessore regionale all'agricoltura di saper amministrare e saper ascoltare la gente questo sicuramente ci rafforzerà nell'esito elettorale che stiamo aspettando Grazie